un saluto cari amiche e cari amici dall'aeroporto di bergamo sono in partenza per un milan club sentite la voce un milan club fratelli rossoneri giù in sicilia a vicini non lontano da catania vi invito sempre iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like ai miei video e andiamo alla palla di pelle la rassegna stampa di oggi giovedì 4 aprile tutto sport a vlao vinco io è stato il grande protagonista della vittoria insieme a chiesa della vittoria della juventus sul sulla lazio e quindi è il titolo di tutto sport è dedicato a vlaovic del resto grande campione resiliente strapotente sinner così buongiorno voglia di big sogna la champions non direbbe no a milan inter e alla premier e io credo proprio che la potrebbe essere la premier potrebbe essere la premier il il l'obiettivo eventualmente di buongiorno e ma in prima pagina anche marotta congela i rinnovi e adesso i nodi vengono al pettine per quello che riguarda l'inter l'inter i rinnovi lo scrive stefano pasquino sunning fa in questo momento fatica il tempo passa e senza e senza la possibilità di di una proroga solo se sunning trova un compratore non trovando sunning il compratore chiaro che gli rinnovi e parliamo di quelli di lautaro e barella soprattutto dice il collega di tutto sport sono in questo momento congelati nel frattempo sempre stefano pasquino su tutto sport dice io non sono molto d'accordo non si può tenere pioli un anno con l'anno in scadenza con la scadenza nel 2025 io dico se pioli è così bravo di meritare la conferma il rinnovo per la prossima stagione lavorerà non è il primo allenatore non è riuscito a lavorare bene pur essendo per tutti un po caduco è riuscito a lavorare bene pur essendo un po caduco quindi con gli stessi stimoli stimolando i giocatori i giocatori gli sono venuti dietro quindi ritengo che possa anche proseguire il prossimo anno tranquillamente pur essendo in scadenza il gruppo è serio la società è seria l'allenatore è serio è successo a capello vincere un campionato tanto me lo ricordate 95 96 pur sapendo da gennaio che sarebbe andato al real madrid è questione di persone serie di club serie di giocatori seri lo erano nel 95 96 lo sono certamente oggi pioli ad lì si candida per un posto con lecce dovrebbe giocare lui oggi capiremo quali saranno le scelte per quello che riguarda gli altri centrocampisti e pioli l'europa per firmare megnana e teo due tasti delicati l'europa per firmare non so se sarà sufficiente l'europa se dovrà arrivare secondo in campionato è un argomento ormai tritto e ritrito giustamente però il tutto sport lo tiene sempre in evidenza perché è un argomento attuale però bisognerà capire poi in questo momento ci sono 70 80 possibilità che rimanga pioli però vedremo ma l'abbiamo detto megnana e teo due tasti delicati su questo punto sono totalmente d'accordo con i colleghi di tutto sport bisognerà vedere se il milan riuscirà a chiudere e iniziare le trattative e chiudere per per megnana e teo sono i tu due più bei acquisti della prossima stagione a stoccolma sarà festa per ibra l'otto giugno l'amichevole tra serbia e la svezia per proprio per festeggiare il nostro caro zlatan ibraimovic milan si sirse più vicino è stato anche il tema del mio video di oggi intanto io guardo come sia la situazione dell'imbarco e il video di oggi perché proprio ho messo questo scenario figlio anche di sirse più vicino al milan a firma di luca bianchin e dice che lui ma abbiamo questo lo sapevamo e l'ha ribadito luca bianchin della gazzetta il giocatore non vuole andare all'estero vorrebbe continuare non forse non si sente ancora pronte un ragazzo intelligente ma io penso spero che non consideri il milan come una tappa intermedia ma già come un grande traguardo e sarebbe importante che scenario ho raccontato per chi non avesse visto il video di questa mattina si parla di un blitz di moncada in germania si è parlato di volsburg di ipsia di tutti i giocatori diciamo del della girassi dello stoccarda però le ultime notizie di ieri mi dicono che sia andato a monaco di baviera non vado immaginare lo scenario che vada a capire dal monaco di baviera dal bayer monaco dal mondo dal bayer münchen se ha veramente intenzione di non mettere i 40 milioni e portare a casa il giocatore in questo caso il milan proseguirebbe eventualmente con le trattative col bologna perché se il bayer dice a fine anno lo prendo io si deve andare subito in verso altri obiettivi quindi questo potrebbe essere lo scenario che porterebbe al pensiero che sir se come dice questa mattina la gazzetta sia veramente più vicina più vicino al milan il diamo il diavolo lo vuole e gioccio apprezza pronti 50 milioni più se le me cares quindi questo è il lo scenario che immaginano i colleghi della gazzetta dello sport proseguiamo sempre con con altri titoli eccoli qua andiamo ad altri titoli e pensi e vediamo eccolo qua e si parla anche di domenica domenica il milan anzi sabato il milan affronta il sassuolo e dovrebbe esserci la conferma di pulisic con leao e c'è il dubbio giro giro e con gli ovici questa è la situazione oggi e vedremo se è una situazione come si evolverà dopo l'allenamento appunto di questa mattina andiamo al corriere dello sport a innanzitutto torniamo ancora all'inter e qui la festa dice la gazzetta si continua è molto caldo sulla gazzetta al tema notte scudetto nel derby 7500 interisti sono pronti e si continua a insistere su questo punto addirittura savino il noto il noto presentatore radiofonico e televisivo ci sarà ci sarà al posto di un milanista trionfo a casa loro doppia goduria bene io mi sono sempre divertito che ci sia l'intero no io ho goduto a sassuolo a miglia contro il sassuolo quando abbiamo vinto il campionato sia che ci fosse il giorno dell'intero no però sono scelte lasciamoli godere mai più senza il booster di allegri parliamo ancora di viku di vlaovic la mandragata ieri la lazio ieri la fiorentina abbattuto l'atalanta grande gol di mandragono un gol straordinario contro un carne secchi e ho letto visto un il profilo di sky sport c'è questa parata su colpo di testa una veramente a ragione una tela avrebbero dovuto fotografarla dipingerla e metterla la agli uffizi di fianco alla primavera di botticelli una un'opera d'arte quella di carne secchi complimenti napoli la lista di manna subito subito sfida per sudakov idea beuchema se sfuma buongiorno per l'inter poi palermo c'è migliani nuovo allenatore e passiamo andiamo avanti vediamo renders una potenza inesauribile si parla di milan piolin segue un record scritto nel destino perché è riuscito con l'inter a vincere nove parete consecutive e vediamo se ci riuscirà con il milan è un è un argomento anche questo divertente e dobbiamo parlare sto andando a catania parliamo di catania non ho parlato ieri complimenti al catana catania che ha vinto la coppa italia ribaltando il risultato di padova peccato che purtroppo lo stadio fosse vuoto e dopo i gravi incidenti di padova in questo gruppo di tifosi ha rovinato la festa di 15 20 30 mila persone dispiace anzi 15 20 mila non faccio lo stadio più grande di quello che sia con te parla il tecnico zeoli intanto io guardo la situazione dedica il trofeo ai genitori scomparsi ma crede che il lavoro non sia ancora finito e allora mi piace fra un minuto vado via mi dicono di andare e parliamo anche di basket domani sera vorrei andare a vedere bellissima partita tra l'olimpia e la virtus bisogna vedere come andranno le partite dell'efes e del partizan se una in una delle due squadre perde una delle due prossime partite vincendo tutte e due le partite l'altr'ultima deve essere col maccami ci sarebbero una possibilità per l'olimpia di afferrare all'ultimo istante la le di play non i play off le partite prima per andare ai play off mi piace essere utile riporto gallinari a casa questa la speranza questa la speranza di di datome che diciamo il general manager mettiamolo così il braccio destro di messina chiudo ricordando che oggi si va a marrakesh non lo voglio perdere berrettini contro trova sonego sono due italiani il tennis è proprio il tipico sport dove io tifo se non mi capita negli altri sport tifo sempre per gli italiani e quindi berrettini sonego me la vedo volentieri berrettini e increscendo sta giocando grandi partite e noi ci auguriamo che possa andare avanti e ritornare i grandi berrettini ma anche sonago vecchio cuore toro sicuramente vorrà riconfermare di essere sulla strada giunta ha cambiato il suo allenatore vedremo intanto come la situazione io vado perché sennò rischio di perdere l'aereo se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelle gatti buona giornata e oggi sarà importante capire quali saranno le scelte di stefano pioli e nel video direttamente da catania anzi david fini dove c'è il milan club fratelli rossoneri sarò in grado di dirvi quali saranno le decisioni soprattutto per quello che riguarda il centrocampo capire se opterà per renders con adli e benasser oppure qualche altre variazioni signori buona giornata ricordate sempre di iscrivervi al mio canale youtube attivate la campanella e scaricate il link in descrizione grazie